Adesso andiamo ad annunciare il team vincitore di questo grande hackathon della scuola italiana dedicato alle scuole secondarie del primo ciclo e quindi al nostro unità Le box! Venite ragazzi! Venite ragazzi! Venite ragazzi! E ancora un grande applauso! Grazie! 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 Grazie a tutti! Ringrazio tutti per avere questa bellissima esperienza e anche Giulia! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti i docenti che hanno seguito i ragazzi! Grazie a tutti! più avanti le immagini della destinazione, con le immagini che ci suggeriscono i luoghi che questi ragazzi rappresentando la scuola italiana andranno a visitare, ma abbiamo un'ultima maratona di giornata, una maratona che ci fa capire quanto alta l'asticella di Futura è, un'asticella che sale fino alla terra, fino a livello internazionale perché Futura, e questa tappa di Futura è stata l'occasione per la prima simulazione dei lavori negoziali, lingua inglese, dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro. Io saluto ancora tutti i ragazzi e con un passaggio di testimone chiamiamo i delegati della Futura Model. Qualche seconda di attenzione.